La nostra regione è interessata dal transito di un sistema frontale, martedì attesa pressione in aumento con miglioramento delle condizioni meteo. In Toscana, martedì 3 dicembre, cielo parzialmente nuvoloso nottetempo e al mattino, con addensamenti più consistenti in Appennino e zone centro-meridionali, ampie schiarite dal pomeriggio, venti moderati o forti nord-orientali, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo, temperature in calo, sereno poco nuvoloso su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana temperatura minima 5 massima 15 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima 3 massima 15, a Biareggio e Solitorale minima 7 massima 16 gradi. Grazie per la visione!